Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Clash Royale Sul mio nuovo account con 14.000 gemme E non solo, perché siamo a 1299 coppe e tra un trofeo andremo nella nuova arena, nella valle degli incantesimi E guardate qua cosa possiamo sbloccare La principessa, la strega, il domatore, ma soprattutto anche la scarica finalmente E insomma, quelle 14.000 gemme ci aiuteranno parecchio a trovare quelle nuove carte, assolutamente Abbiamo anche un po' di cose da aprire, soprattutto qui nel passo Royale, ma anche proprio nel cammino dei trofei Chiamiamolo un po' alla Brawl Stars Ovviamente tutto shoppato col codice creatore GGYT, tutto attaccato nel shop di Clash Royale Mi raccomando ragazzuali, inseritelo anche voi, il mio codice creatore GGYT quando shoppate le gemme per supportarmi È davvero fondamentale Ah sì, ovviamente stiamo sfruttando sempre il fatto che le gemme costano di meno Mi raccomando, 5.000 like per un'altra shoppata da 14.000 gemme qui sul mio nuovo account Ovviamente poi per quando arriveremo nella nuova arena Per adesso ragazzi stiamo scalando alla grande, ma insomma non è che stiamo beccando chissà quali avversari Prendete, mi sa che abbiamo sempre vinto questo account Mi sa che stiamo creando un account full vittorie Praticamente mi tolgo anche gli occhiali addirittura adesso Perché non possiamo fallire proprio ora Che cosa ho fatto? Ah ho switchato, mi sa che prima ho switchato per sbaglio il deck Vabbè comunque stavamo utilizzando quello del minatore Quindi attenzione stavo usando quello del minatore Voi iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto ragazzuoli Tra l'altro siamo a livello 8 e stiamo già nella valle degli incantesi Perché abbiamo beccato uno che sta già a 1300 coppia Quindi attenzione, però siamo a livello superiore Allora, oh il peccone ragazzi Allora facciamo una roba Facciamo una roba Ok Che i pipistrelli ragazzi potrebbero essere un problema Perché potrebbero essere un problema? Perché mi hanno fatto fuori il cavaliere Quindi il cavaliere non ha potuto far nulla contro il peccone Però noi contro il peccone giochiamo lorda Lorda, lorda, lorda Vieni qua cucciolo Moschettiere se fossi andato sul cucciolo di drago Sarebbe stato il top del top Anche il mini pecca c'ha il tipo qui Abbiamo anche il mini pecca abbiamo qui Allora andiamo di nuovo di minatore Quindi di nuovo la strategia degli sgherri col minatore Difeso ovviamente perfettamente Ha difeso perfettamente il minatore e i nostri sgherri Dal suo spiritello Comunque giochicchia questo È sicuramente uno degli avversari più bravi Che io abbia mai beccato fino ad ora Per quanto riguarda questa scalata con questo account Perché comunque giochicchia Ma insomma lo stiamo pregando Allora lui non sta giocando nulla Ma non capisco il perché Dovrebbe essere full di elisir Attenzione Di nuovo il peccone Di nuovo il peccone Ho giocato forse l'orda un po' troppo presto Però in realtà va benissimo così Ma dai mettiamo Mamma mia regà il cuccio di dragon Noi ce l'abbiamo a livello 10 Lui è a livello 7 Poverino Poverino ragazzi Le altre carte Bene o ma Oddio no c'ha pure i pipistrali al 2 Oddio Non lo so Non lo so ragazzi Vabbè il mega sgherro al 7 Ci può anche quasi stare in realtà Mega sgherro al 7 Ci può anche quasi stare Allora Dato che io mi sto riempiendo di elisir Sta arrivando il per 2 Direi di pushare nuovamente così Allora andiamo di frecce questa volta Perché vorrei andare a fare le hit Abbiamo preso anche I draghi d'ossa Top ragazzi Quella torre è rimasta a 84 Lui non sta giocando nulla Regà E lui si sta riempiendo sempre di elisir ragazzi Non so Che fare Stavolta ha giocato lo spiritello Attenzione Ha rischiato la giocata Ha rischiato Ha rischiato la giocata signori Ha rischiato la giocata Ma noi ci siamo difesi in maniera Molto 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 pulita Andiamo penso per le 3 Anche in maniera Abbastanza tranquilla E ragazzi Penso che sia fatta Vale degli incantesimi per noi Principessa Domatore Scarica Insomma Tutte queste nuove carte Stiamo arrivando Ovviamente l'obiettivo è quello di trovare La principessa E perché no Cercare anche di raggiungere Il livello 2 Per il minatore Uh Anche questa bella offertuccia Abbiamo beccato Penso che ci andremo a shoppare anche questa Anzi io a questo punto Partirei proprio da questa offerta Mi raccomando Vi ricordo sempre Col codice creatore GGYT Tutto attaccato Fondamentale abbiamo già sbloccato la scarica Attenzione L'abbiamo vista L'abbiamo vista tutti quanti Solo la scarica Solo la scarica L'abbiamo sbloccato Va bene Va bene Va bene Va bene Allora Baulozzi giganti Jolly Che comunque ci torneranno utili Pipistrelli sbloccati 120 scariche Iniziamo alla grande 32 torri infernali Andiamo con l'altro ed ultimo Baulo gigante Attenzione Jolly raro Cucciolo di drago Barbarozzi Valkyrie 30 valkyrie Che ci torneranno sicuramente comode Ma soprattutto l'oro ragazzi L'oro soprattutto ci tornerà utile E attenzione attenzione Che abbiamo il baule cangiante E anche il baule fortunato Ovviamente quelli nuovi Per l'arena 5 Mentre il baule del re E ancora il baule del re normale Dobbiamo poi arrivare ovviamente Al baule del re Leggendario E lì poi ragazzi Ci faremo certe scioppate Anche con questo account Pazzesche Allora andiamoci comunque A prendere anche questi bauli Perché così poi Quando ci andiamo a aprire Il baule del re Almeno ci abbiamo tutto già sbloccato Quindi Spaccamuri Sbloccati Attenzione Libro dei libri Che ci tornerà sicuramente utile Altro Baulozzo Attenzione Qui non abbiamo sbloccato nulla Ci abbiamo ancora un po' di cose Da sbloccare Ora a parte la principessa Ancora il domatore Dobbiamo prendere ragazzi Ancora il signor domatore Dov'è il signor domatore Ragazzi E qui se no Come facciamo a A potenziarlo Se non lo troviamo Eccolo lì Domatore sbloccato Signori Domatore sbloccato Eccolo là Andiamoci a prendere Queste ultime cosucce E poi ci andiamo a vedere Le carte che ci mancano Ragazzi Vediamo un attino Quali altre carte ci mancano Oltre la principessa Vabbè Allora aspettate Prendiamo anche questa roba Non finisce più La roba che dobbiamo prendere ragazzi Ce n'abbiamo troppa E qui vabbè Vado di torre infernale ragazzi Dai Allora l'oro Ovviamente Qui ragazzi Vado di peccone Assolutamente E Carte sbloccate Ah non me lo fa vedere però Da qui non lo posso vedere Quindi sicuramente Anche la strega Mi manca ancora Mi manca la strega E la principessa Mi sa basta Sì ragazzi Strega e principessa E ancora non abbiamo usato Le 14.000 gemme Quindi insomma Dai Partiamo Partiamo Con questi bauli terreni Possiamo aprire Sette se non sbaglio Allora Oro Che ovviamente Ribadisco Ci tornerà sicuramente utile Jolly Jolly Cannone Perfetto Strega Vai così Vai con la strega Let's go Sfera infocata Sgherri Moschettiere Possiamo portare al 9 Spaccamuro E leggendaria Ora sarà il minatore Che potremo portare Al prossimo livello Oppure la principessa Lo scopriremo tra 3 2 1 Let's go Vediamo un attimino Ti prego Ti prego Ti prego La princes Sì Sbloccata Anche La principessa Mamma mia ragazzi Che feels Dei vecchi chest opening Di Clash Royale Mi mancavano veramente tanto Anche perché ultimamente Abbiamo fatto anche pochi box opening Su Brawl Stars Quindi mi mancavano Tutte queste shoppate selvaggi Cioè ragazzi Noi già avremmo finito qui Già avremmo finito qui Ma adesso L'obiettivo È portare almeno Una Delle due leggendarie Al 10 Perché ovviamente Ce l'abbiamo ancora Al 9 Nessuna delle due Quindi abbiamo 12.000 gemme Per cercare Di portare Una delle due leggendarie Che abbiamo Al livello 10 Abbiamo anche i jolly Forse Non so se abbiamo Dei jolly leggendari Mi sa di no Attenzione il domatore Attenzione al domatore Però niente Niente leggendaria Ma attenzione Alle 12 streghe Eh Pazzesche le 12 streghe Let's go Col prossimo Baule del re Via 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 Ariete da battaglia Torre infernale Stregone Domatore 29 Attenzione 205 goblin Leggendaria Quindi ce l'abbiamo fatta Ragazzi Perché sarà sicuramente Una tra princess E minatore E quindi Di sicuro Riusciremo a portarne Almeno Una delle due Al livello 10 Vediamo un po' Voi che sperate Che sia la princess O il minatore Io sinceramente Preferirei la princess Ve la butto lì Ve la butto lì Ma va benissimo Anche il minatore Attenzione al minatore Va benissimo Va benissimo Così andiamo A potenziare Il minatore Con 5000 di oro Ragazzi L'oro L'oro Mamma mia ragazzi Se sarà difficile Farlo Sarà veramente Complicato E quindi niente ragazzi Io a questo punto Quelle 8000 gemme Me le terrei Per andare a fare Magari qualche altro Chest opening Comunque oggi abbiamo aperto Un sacco di roba Abbiamo sbloccato Tutte le carte Abbiamo potenziato Anche una carta leggendaria Fatemi sapere Se comunque vorreste Andare a vedere Alcune scalate Che faccio Perché comunque Io bene o male Le scalate Ve le sto tutte Risparmiando Soprattutto adesso Che siamo ancora Abbasti di trofei Non sono neanche Combattute le partite Tutto abbastanza facile Tutto abbastanza breve Veloce Quindi fatemi sapere Sotto nei commenti Se vorreste vedere Qualche challenge Appunto Magari mentre scalo Vi ricordo Il codice creatore GGYT Tutto attaccato Per supportarmi È davvero fondamentale Con le carte Siamo messi davvero Molto bene E ci mancherebbe Con tutto quello Che abbiamo shoppato Insomma Mi raccomando I 5000 like Per un'altra shoppata Comunque anche se Abbiamo risparmiato 8000 gemme A 5000 like Andiamo a shopparne Altre 14000 Iscrivetevi al canale Se ancora Non lo aveste fatto Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi